Le pratiche di consapevolezza, di mindfulness che Kabat-Zinn ha inserito all'interno del percorso per la riduzione dello stress derivano da delle pratiche di presenza mentale descritte dal Buddha, nei testi antichi del Buddha, in un discorso che si chiama il grande discorso della presenza mentale, che appartiene, questi scritti appartengono al buddismo Theravada, o meglio conosciuto come buddismo antico. Ma questo non significa, non vuol dire che bisogna essere buddhisti per poter fare queste pratiche di meditazione, solo che queste pratiche di meditazione derivano da una saggezza molto antica e in particolare da un percorso, in otto passi possiamo dire oggi, diremmo, da un percorso che il Buddha descriveva per poter uscire dalla sofferenza, dicendo che uscire dalla sofferenza significava uscire dall'ignoranza, cioè cominciare ad avere la possibilità di vedere le cose così come erano veramente e non così come la nostra mente ce le faceva vedere. Questo arrivare a vedere la realtà dalla propria parte, cioè quindi non attraverso le nostre rappresentazioni mentali, ma così come sono veramente, è possibile attraverso una serie di passi. Uno di questi è appunto la pratica di consapevolezza, la pratica di mindfulness.